Siamo arrivati al compensorio di Lorica Siamo arrivati al canale Siamo arrivati al canale Questo è il nuovo impianto di cabinovia allestito da due anni più o meno da questa parte che sale fino al bottedonato nella parte alta Siamo arrivati al canale Allora 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 Paisaggi di Mossafiato qui a bottedonato Siamo nella parte più alta della Sila Quello è il lago Arvo Con tutte le sue meraviglie Questo posto ha conosciuto temperature anche a meno 20 Sembra non credeci ma è così Questo è un profligio batte donate è stato un'altra volta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti